e rieccoci in studio lupi scatenati sull'altopiano di asiago nuove predazioni intanto domani ci sarà un vertice tra allevatori malghesi e pastori nuove predazioni dei lupi ormai si è perso il conto delle bestie uccise sull'altopiano ennesima mucca sbranata siamo in comune di asiago l'assalto nella notte e questo vedete quello che resta del povero animale sempre la scorsa notte un altro vitello guardate che roba qui a valmarone in comune di enego e tra l'altro l'allevatore alle 4 di notte si è trovato davanti un branco di 5 lupi che è riuscito a scacciare ma ormai era troppo tardi avevano già ucciso il bovino una strage che sta mettendo in ginocchio chi vive e lavora in montagna una decina di giorni fa lo ricorderete un intero greggio di pecore esterminato dal lupo che ha ucciso 30 animali oltre ai 15 che sono stati abbattuti in un secondo momento perché ridotti allo stremo intanto martedì mattina in municipio ad asiago è previsto un incontro tra pastori allevatori e malghesi dell'altopiano per cercare di far fronte comune alla drammatica situazione della nostra montagna questione caro affitti ater sono state consegnate al sindaco di treviso 350 firme di residenti che chiedono che venga sospesa la riforma aumento dei canoni delle case ater mentre dalla regione è arrivata comunicazione ai comuni della costituzione in ciascuna provincia dei nuclei territoriali di analisi delle conseguenze effettive dell'applicazione delle nuove norme il comitato spontaneo dei cittadini di santa buona ha consegnato al sindaco mario conte la petizione con la quale si chiede la sospensiva del nuovo regolamento in attesa di adeguati correttivi circa 250 firme di persone che hanno sottoscritto questa richiesta di sospensiva e successiva modifica del regolamento regionale che tenga conto di particolari punti per esempio lo scorpero dal reddito ise di quelli che sono le entrate derivanti dal tfr o da pensioni di verità civile o da risarcimento assicurativi pensioni sociali e quant'altro insieme all'ex consigliere comunale renosto anche inquilini che vivono il problema sulla propria pelle come roberto speciali che si è visto più che raddoppiare l'affitto per chi in banca ha 48 mila euro frutto di tfr risparmi e una piccola eredità lei ha portato il suo esempio direttamente al sindaco no un aumento consistente ok da 180 a 474 lei da quanto abita in un alloggio da 32 anni e a un ise che non supera i famosi 20 mila euro no praticamente io arrivo a 19 mila 80 esattamente con una pensione italiana una pensione estera un'integrazione estera alla pensione particolari cautele il comitato le chiede per gli over 75 perché nel momento in cui si spostano le persone da una casa dove hanno passato un'intera vita e quindi dentro quelle mura ci sono particolari ricordi legati al marito al figlio eccetera diciamo lo spostamento può creare dei disagi delle patologie anche in queste persone soprattutto anziani che possono avere anche degli esiti in fausti in breve termine quindi possono cadere in depressione quindi particolare attenzione soprattutto agli anziani che sono per noi le fasce più deboli tematiche sanitarie ci occupiamo dell'area materno infantile a padova e scontro tra azienda sanitaria il personale sigle sindacali perché si parla di una forte e pesante carenza di organico si apre un nuovo fronte sulla sanità padovana la nuova patologia neonatale del capoluogo aperta per assistere 35 neonati in culla a oggi ha attivi solo 27 posti in attesa dell'arrivo di almeno 20 operatori in più rispetto alla forza lavoro già presente a paventare il rischio di un decadimento della qualità del servizio e di un innalzamento delle responsabilità per gli operatori sono i sindacati riuniti che hanno chiamato a raccolta il personale per fare il punto della situazione tutta l'area materno infantile è in fase di riorganizzazione e quindi i lavoratori temono questa questa fase e temono che possa accadere quanto sta già avvenendo a campo san piero e che quindi i lavoratori siano appunto chiamati a responsabilità professionali maggiori che non rientrano appunto nelle loro competenze sindacati operatori annunciano battaglia se le cose non cambieranno entro breve siamo qui perché ci ritroviamo di nuovo dopo la chiusura di piove di sacco e il declassamento del punto nascita e della patologia neonatale di campo san piero di nuovo a far fonte un'emergenza sanitaria con il personale dell'azienda ospedaliera hanno comunque riorganizzato tutta la parte materno infantile partendo dalla patologia neonatale e dal nido questa riorganizzazione ha esposto i lavoratori a una responsabilità professionale elevata e questi lavoratori che sono tenuti a fare doppi turni per garantire un'assistenza che sia eccellente come richiede un'azienda di questo livello le sigle sindacali riunite riferiscono di aver già fatto presente alla direzione dell'azienda sanitaria questa nuova problematica noi siamo impegnati oggi come cgl cis le will per evidenziare una problematica legata alla carenza del personale in questo caso dell'area materno infantile anche se in verità le problematiche sanitarie che noi stiamo ravvisando sono diverse dettate proprio dal numero importante di pazienti da seguire in base all'esiguo presenza di personale ricordiamo che non riguarda solo gli infermieri la problematica ma riguarda le os le operatrici socio sanitarie le ostetriche per quanto riguarda l'area materno infantile non solo la patologia neonatale ma anche il nido il porperio e la piastra ostetrica quindi parliamo di centinaia di lavoratrici maggiormente donne lavoratori che sono impegnati nella cura nel sostegno della donna e del bambino in una condizione di difficoltà. A Venezia cresce il numero di case affittate ai turisti soprattutto stranieri un dato che da una parte fa bene alle casse comunali che vengono aumentate appunto grazie agli introiti della tassa di soggiorno dall'altra però fa calare drasticamente il numero di case per i residenti per chi vuole vivere a Venezia. I numeri si sa non si discutono eppure spesso esistono modi molto diversi di interpretare la stessa cifra l'aumento del 20 per cento di locazioni turistiche registrato a Venezia nell'ultimo periodo ad esempio visto da Caffarsetti può essere interpretata come una manna capace di far salire il monte premi della tassa di soggiorno oltre il milione i 600 mila euro nella sola prima metà dell'anno. Marco Gasparinetti del gruppo 25 aprile invece si fa portavoce di chi ha un'altra chiave di lettura. Quel più 20 per cento di pernottamenti extra alberghieri a Venezia significa un 20 per cento in meno di posti letto disponibili per i residenti a meno che l'obiettivo non sia quello di trasformare Venezia in un albergo diffuso c'è poco da gioire. Nel metro quadro che si libera diventa locazione turistica quindi come veneziani dovremmo forse metterci una mano sulla coscienza e chiederci se questa è la città che vogliamo. Un'esterno in cui possono vivere soltanto i molto ricchi che possono comprarsi casa e i relativamente poveri che sono al di sotto delle nuove soglie. Se vogliamo fare qualcosa di concreto per questa città gli strumenti ci sono, esiste anche una legge regionale a cui dedicheremo un dibattito in Bragora il 20 settembre. Il problema di Venezia, sostengono dal gruppo 25 Aprile, non è il singolo che affitta i turisti ma la somma di tutti i singoli che non fanno altro, magari per mancanza di incentivi a fare diversamente. Il comune sta sicuramente facendo la sua parte anche perché siamo sotto lezioni per quel che riguarda la riconsegna alla cittadinanza di tutti quegli appartamenti in proprietà comunale che per mancanza di restauro negli anni precedenti erano rimasti vuoti. Di questo diamo atto molto volentieri all'amministrazione comunale. Se abitare a Venezia non è un problema per chi ha disponibilità finanziaria e per chi avendone poca può entrare nella graduatoria degli alloggi popolari, a rimanere schiacciata nel mezzo c'è quella classe media troppo benestante per un aiuto pubblico che però è allo stesso tempo troppo povera per affrontare un mercato dei prezzi proibitivi, una situazione che dovrà obbligatoriamente essere presa in considerazione. E un ciclista veneziano è rimasto gravemente ferito in uno scontro con un cinghiale mentre stava pedalando sui colli euganei. Bloccato a letto per un mese e mezzo a causa di un cinghiale, è lo scotto che un ciclista veneziano ha dovuto pagare per aver fatto una banale pedalata sui colli euganei dove il problema dei cinghiali si sta facendo sempre più pesante. L'incidente è avvenuto qualche giorno fa a Castelnuovo di Teolo, una delle zone più amate dai ciclisti di tutto il Veneto per la varietà di percorsi e soprattutto per l'aria buona che si può respirare alle pendici del Monte Venda. Il ciclo amatore di Vigonovo, che ha 41 anni, era in compagnia di un gruppo di amici e stava scendendo verso il paese di Torreglia sulla provinciale 43, nella zona delle trattorie e degli agriturismi. Improvvisamente gli si è parato davanti un cinghiale e il ciclista non ha neanche avuto il tempo di frenare. L'impatto è stato inevitabile e violentissimo, ma non per l'animale che ha proseguito la sua corsa verso il bosco che confina con la provinciale. Non è andato altrettanto bene al ciclo amatore che è caduto a terra ed è finito contro il guardrail sotto gli occhi dei compagni di gita. Il 41enne non riusciva ad alzarsi in piedi ed è stato soccorso dagli amici, che hanno chiamato il 118. È stato portato d'urgenza al policlinico di Abano, dove gli sono state riscontrate fratture multiple e altre botte giudicate guaribili in 45 giorni. È stato anche sottoposto a un intervento chirurgico di riduzione della frattura scomposta al malleolo, con l'inserimento di una placca e delle viti, mentre per le altre lesioni si è deciso il trattamento conservativo. Ora il malcapitato annuncia battaglia, ma la trafila per i risarcimento di questi infortuni è molto lunga e complessa. Quella dei cinghiali sui Colli Ugane è infatti una situazione che da tempo sta colpendo in modo drammatico l'agricoltura, ma a questo punto sono in molti a pensare che si tratti anche di un problema di incolumità di ciclisti e amanti delle passeggiate. I carabinieri di Mestre hanno arrestato due persone per detenzione e spaccio di droga. Controlli da parti dei carabinieri contro lo spaccio di droga. I militari della Compagnia di Mestre hanno intensificato gli interventi sul territorio ad essere monitorate l'area urbana mestrina e nella zona del quartiere Piave. Aumentata la vigilanza anche nei parchi pubblici con decine di perquisizioni e proprio nell'area del Parco Albanese in zona Bissuola i militari della stazione di Spinea, a conclusione di un mirato servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno arrestato uno spacciatore ganese e messo fine ad un giro di droga. Dopo un'attenta attività di osservazione i carabinieri hanno sorpreso l'uomo senza fissa dimora a girarsi per il parco in attesa di incontrare i clienti per consegnare la droga. Il soggetto che aveva scelto come punto di incontro una zona verde nelle vicinanze dell'ingresso è stato bloccato dal personale in abiti borghesi. Sottoposto a controlli l'uomo nascondeva all'incirca 20 grammi di marijuana e contanti in banconote di piccolo taglio. Bloccato in flagranza di reato è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Il secondo spacciatore, ad essere fermato dai carabinieri, un giovane nigeriano trovato in possesso di diversi grammi di eroina e 300 euro in contanti. Alla vista dei carabinieri, l'acquirente ha tentato di disfarsi dell'involucro, gettandolo dietro a una siepe. Ma gli uomini della stazione di Martellago sono comunque riusciti ad individuare ed arrestare l'uomo, mentre gli acquirenti sono stati segnalati alla prefettura. Qualche minuto di pausa e poi torniamo in studio. Ci occupiamo della questione plateatici e degli esercizi pubblici in centro a Padova.